Il fuoco che Gesù porta sulla terra non ci lascia tranquilli, ma ci spinge a cambiare. Commentando il Vangelo di Luca, Papa Francesco nell'Omelia della Messa a Casa Santa Marta ha ricordato che la conversione è un cambiamento, una lotta che poi porta alla pace interiore, che trasforma i cristiani tiepidi in testimoni della volontà di Dio. Fondamentale è lasciare spazio nel nostro cuore, evidenziato il Papa, allo Spirito Santo, attraverso l'esame di coscienza, combattendo le malattie della mondanità. Le difficoltà della nostra vita, aggiunto, non si risolvono annaquando la verità, ma con un cuore generoso, perché aperto all'amore e fedele alla parola di Dio. Cambiare il modo di pensare, cambiare il modo di sentire. Il tuo cuore, che era mondano, pagano, diventa adesso cristiano con la forza di Cristo. Cambiare, questa è la conversione, e cambiare nel modo di agire. Perché le tue opere devono cambiare? È un cambio. Ma non è un cambio che si fa col trucco. È un cambio che fa lo Spirito Santo dentro. E io devo fare del mio, perché lo Spirito Santo possa agire. E questo significa lotta, lottare.